allentate le misure anti contagio a partire da oggi lunedì primo marzo in tutta la svizzera tornano ad aprire i negozi i musei e le sale di lettura di biblioteche archivi le strutture sportive e per il tempo libero all'aperto restano chiusi i ristoranti bar locali notturni discoteche e sale da ballo tuttora in vigore l'obbligo della mascherina del telelavoro se possibile della didattica a distanza per gli studenti universitari è possibile incontrare parenti amici in case private non superando il limite di presenza di cinque persone vietate le manifestazioni ma per quanto riguarda le riunioni private le regole sono state allentate e saranno possibili con un massimo di 15 partecipanti è consentito praticare sport per i minori di 20 anni in canton ticino restano ammesse le celebrazioni religiose i funerali i matrimoni con una partecipazione limitata a 50 persone queste disposizioni resteranno in vigore fino al 21 marzo intanto in ticino sono 28 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nessun nuovo ricovero e nessun decesso legato al covid negli ospedali del territorio si trovano 63 pazienti affetti dal virus 11 dei quali in terapia intensiva